c'erano una volta tre figli dei quali il più piccolo di nome cecchino passava per incorregibile scansa fatiche i fratelli continuamente si lamentavano di questa sua poltroneria e spingevano la madre a cacciarlo di casa un giorno dissero proviamo ad ammogliarlo così sarà costretto a farsi venire la voglia di lavorare e cecchino si sposò se non che la mattina dopo allorché la moglie cennava ad alzarsi lui la trattenne ma che ti viene in testa di fare e la poverina dovrò pure alzarmi per fare le faccende di casa o no lui si mise a ridere le faccende di casa non avere premura che fretta e fai come me la moglie tornò a coricarsi e si alzarono entrambi a mezzogiorno altrettanto avvenne nei giorni successivi i fratelli nell'osservare la brutta piega che stavano prendendo gli sposi raddoppiarono le loro lagnanze perché mentre prima il poltrone era uno adesso gli oziosi erano due e tanto bestemmiarono e tanto protestarono che la madre fu costretta a cacciarli di casa cecchino suo malgrado si fece pescatore il primo giorno fu così fortunato da catturare un pesce spettacoloso allora pensò bene di portarlo al re per ricavare qualche merito appena però giunse davanti al palazzo fu fermato dal portinaio che voleva impedirgli di entrare e che poi gli disse ehi tu vieni vieni qua se mi prometti che mi darei la metà di quello che speri di avere io ti faccio passare cecchino promise salì le scale e si trovò davanti a tre inservienti in livrea che prima lo fermarono e poi gli fecero la stessa proposta cecchino ha consentì ammesso finalmente nella stanza del trono offrì il pesce a sua maestà e questi gli tese un sacchetto con cento monete ma cecchino le rifiutò e il re incubito gli disse perché le rifiuti e cecchino maestà invece delle cento monete io desidero cento colpi di frusta il re che non sapeva se ridere o indignarsi chiamò un serve ordinò di assestargli cento sonore frustate ma prima che quelli potesse cominciare cecchino disse un momento ho promesso la metà del compenso al portinaio e voglio mantenere la promessa fu chiamato l'uomo giù dal basso il quale muto e allocchito dovette sorbirsi le sue 50 frustrate poi furono chiamati gli altri tre inservienti che si ebbero rispettivamente 25 12 e 6 colpi di frusta dopodiché cecchino disse al servo we we in un momento con la porzione che mi devi dare comunque tengo da accontentare qualcun altro aspetta corse di filato sulla strada si imbatte in un povero diavolo che si chiamava maestro francesco e gli disse we 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 senti qua che te ne par di quest'affare li vuoi sei colpi di corda di palazzo vedi che è un affare te lo c'è da buon prezzo quel tale infregolito dalla proposta eccezionale si lasciò trascinare davanti al sovrano e senza poter fiatare si ebbe i residui sei colpi di frusta al che il re ricavando quanto fosse fino l'improvvisato pescatore lo prese a benvolere le nominò soprastante di palazzo una carica che permetteva di vivere spensierati buttando l'occhio sulla fatica degli altri e questa è la storia amici i miei combari cecchino e cervello fino stretta è la foglia larga è la via voi dite la vostra che io ho detto la mia ciao ciao